E' con molta gratitudine che vi invio questo breve messaggio che per me è l'opportunità, l'occasione per dire a tutti, a tutta l'azione cattolica ambrosiana, a tutta l'azione cattolica della Lombardia, a tutti voi, la nostra vicinanza, a dirvi che tutta l'azione cattolica italiana è con il cuore in Lombardia, è con il cuore a Milano, a Bergamo, a Brescia, a Cremona, a Lodi. E' anche il modo per dirvi grazie perché l'azione cattolica in Lombardia come in Emilia c'è, continua ad abitare questo tempo, questo momento così difficile, così complesso anche che pone delle domande importanti alla nostra vita di fede. E grazie per questa maratona di preghiera a cui tutta l'associazione in qualche modo aderisce e partecipa. è il modo per affidarci, per affidare ciascuno alle mani del Signore che ci tragga dalle acque tumultuose, come dice il Salmo che avete scelto per questa vostra maratona di preghiera. Allora vogliamo affidargli le tante persone, le tante persone che muoiono, le tante persone che soffrono per i propri cari, le tante persone che si impegnano e lottano per portare conforto, aiuto a queste persone, le tante persone che rispettando le regole stanno lottando anche loro in questo momento così difficile. E poi questa maratona possa essere anche un'occasione per piangere insieme, piangere insieme a quelle lacrime che fisicamente non possiamo piangere insieme. Allora davvero grazie per questo che state facendo, lo facciamo insieme e lo facciamo diciamo portando nel cuore in maniera particolare Don Franco, che so che per tante persone dell'azione cattolica di Milano è stata persona importante, è stata persona che ha accompagnato, ha fatto crescere nella fede e in umanità. Grazie a tutti.